si è unito anche lui allora ciao a tutti qui abbiamo Samore Pufi e Matioski il celebre Matioski il celebre Arrimo e da qualche pa... è di qua? si dell'Hallers si 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 sta inquadrando perfetto allora Matioski ci descriva la serata e beh sono andato a casa di quest'uomo abbiamo visto dei video epici oserei dire compresa Estate di Lil Angels il grande singolo di quest'estate appunto recuperatelo se non l'avete ancora visto Estate Estate poi siamo andati in un locale conosciuto da quest'uomo ha guidato lui tipo Gran Turismo dopo di che il ritorno invece ho guidato io perché lui è subriacato non è vero ha bevuto un po' sono leggermente brillo questo video verrà più o meno così ho guidato io per rendimento in terza perché non sono abituato alla macchina alla potenza della sua macchina e invece adesso ci troviamo a Black Crow io pensavo un locale piratesco invece non ci sono bende né pappagalli vogliamo vogliamo testimoniare il fatto che siamo andati al al birrificio cioè di Como di Como e l'hanno riconosciuto indicandoli dicendo ma io l'ho visto su Facebook e Matti Mattosca Mattosca chi è quel coglione adesso c'è uno in macchina che mi sta guardando non so se per picchiarmi l'ha riconosciuto pure lui probabilmente non lo sa non lo so adesso è ripartita boh ho i miei dubbi ma lo so va bene dai da questa serata semi epica dove tutti è andato buca compreso Vittorio vedete che siamo pieni di ragazze esatto tanta patata possiamo vedere veramente figa manetta ma potremmo rimediare nei prossimi giorni esatto perché sono andate in bagno poverine lui è la casa libera quindi se volete andare a fare una serata potete andare da lui si non diciarla via ok peccato se siete ragazze iscriveteci messaggio privato su Facebook vi daremo le indicazioni perfetto allora io direi che qui per stasera è tutto da The Lawlers Mattioschi ciao e Samurai Fufi bella ragazzi ciao ciao